Come azienda Silbernak siamo estremamente orgogliosi di essere stati parte di questo test e essere stati considerati da Evobus quale partner per questo test davvero particolare. Diciamo che i risultati sono stati migliori anche delle aspettative. Innanzitutto ci fa molto piacere essere riusciti a far ruotare diversi autisti, autisti con diverse esperienze, autisti giovani, autisti con più esperienza e che ci hanno dato tutti un feedback univoco entusiasta in termini di guidabilità, di piacere di guida e di gestione del mezzo. Siamo riusciti a far arrivare il mezzo in alta quota con carica sufficiente per svolgere poi quello che era il servizio che era stato dedicato. Comunque è stata veramente un'esperienza particolare per noi, per i nostri autisti e anche per il territorio come poi magari avremo modo di approfondire.